Sono stato oggetto di un tentativo di seduzione da parte di Lorenzo Necci, Presidente delle Ferrovie dello Stato, che dopo avermi offerto... Speravo di una bella attrice, no? Sì, una volta mi ha fatto conoscere, voleva farmi conoscere Sharon Stone. Ah, e lui come la conosce, sarà Sharon Stone? Non lo so, ma avrà i suoi canali, che stava in Italia. Però ci fu quest'offerta della Presidenza di Metropolis, alla quale io risposi che non ero interessato, perché non sapevo come spendere tutti quei soldi che mi sarebbero venuti dalla Presidenza di Metropolis, considerata anche che io non ero all'altezza di controllare i bilanci di quella società, mi sarei dovuto avvalere di un consulente. Ma poi lui fece un grande evento a Pietrassa, al quale invitò i personaggi più potenti della politica e della magistratura italiana. Invitò in particolare il Presidente del Consiglio, Lini, poi invitò il Presidente della Regione Campania, che era l'Astrelli, invitò il Sindaco di Napoli, che era Bassolino, invitò alcuni ex magistrati, magistrati come il Presidente del Consiglio di Stato, alcuni magistrati della Corte dei Conti, e c'era anche il Direttore Generale del Tesoro all'epoca, che era un certo Draghi, che adesso è diventato Presidente della BCE. E in questo parterre, poi c'era il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, e chi doveva concludere in questa grande manifestazione in cui si parlava della legalità, era Ferdinando Imposimato, a cui avrebbero fatto seguito poi Lorenzo Necci e il Presidente Lini. Questa era una manifestazione molto successiva, molto impressionante dal punto di vista della saga dei potenti che erano concentrati quel giorno, tutti presenti in questa, e di tutte le televisioni di organi di informazione. Ebbene, io nonostante questo tentativo di seduzione, che peraltro non mi fece nemmeno lontanamente cambiare idea sulla necessità che io restassi fuori da questo giro perverso, io dissi che non ero interessato a diventare nulla, tranne che quello di restare magistrato, modesto magistrato, perché io appena avevo terminato i miei tre mandati parlamentari e stavo per tornare in magistratura. Quindi, però voglio dire, mi ha impressionato e mi ha incuriosito molto questo tentativo di coinvolgere i magistrati, non solo con il denaro, ma anche con il profumo del potere, il profumo del potere che fa sì che alcuni magistrati perdano il ben dell'intelletto e si decidano di dedicarsi e di mettersi al servizio di questo superpotere economico, politico che amministra l'Italia. Ecco, lì io ho conosciuto questa categoria superiore, diciamo, di personaggi che però hanno anche una caratteristica particolare del controllo totale, quasi totale, dei mass media, perché tutta questa storia dell'alta velocità che io ho cercato di portare all'attenzione del pubblico, in Italia è stata quasi del tutto silenziata. Grazie.